Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, come prima cosa vi ricordo subito, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale cliccando al tastino che trovate proprio sotto al mio video e attivare la campanella così da non perdere le prossime uscite e che vi aspetto anche su Instagram, ma come al solito sotto nell'info box trovate tutti i link di riferimento per quanto riguarda i miei social. Video profumoso, era un po' che non ve li facevo, e questa volta parliamo di tre meraviglie della Faberlic. Allora, l'arriamo di cui vi parlo è Fleoclet, questa è la scatola tutta rosa con questa decorazione di fiori intorno al nome della profumazione, la bottiglietta è fatta in questo modo, come vedete l'ho utilizzato, il tappo richiama un po' la fantasia dei fiori appunto che troviamo sulla scatola, carino, molto molto carino, lo spruzzo così ve ne parlo. Allora, che buono che è, questa è una delle prime profumazioni che ho preso della Faberlic, è un po' un profumo da sognatrice, spruzzandolo sembra quasi di stare veramente in un giardino primaverile, è un profumo floreale, molto buono, molto intenso comunque, e questa, la fragranza Flaurette è stata creata dal famoso profumiere Oliver Crespe, è famosissimo, allora vi leggo una piccola descrizione della fragranza fatta appunto dal profumiere che l'ha creato, dice Flaurette incarna il giardino di primavera con peoni e selvatiche e mi porta nel sud della Francia, a Grasse, dove ha trascorso la mia infanzia l'incredibile aroma delle peonie in fiore, si intreccia con il suo squisito, con il suono squisito di rosa centifolia, delicati fiori di mughetto e note legnose di vetiver, così appunto ha descritto la sua profumazione, è un floreale fruttato, è arioso, è molto intenso, lascia scia come profumazione, e sembra veramente quasi di avere un tocco di petali sulla nostra pelle, si sente la peonia rosa che gli dà appunto questa parte molto intensa, e crea un po' questa atmosfera romantica intorno alla profumazione, e a chi lo indossa ovviamente, è elegante, si sente anche una piccola parte verde data appunto dal mughetto verde, e poi troviamo la parte succosa che gli dà il licce, quindi la piramide olfattiva della profumazione è nella note di testa, troviamo il bergamotto e il licci e il fiore d'arancio che gli vanno a portare appunto questa freschezza, nel cuore la peonia, la rosa rossa, la mela rossa e il mughetto, e nella coda troviamo il vetivera, il sandalo e il moschio bianco, è un profumo davvero molto bello e intenso e sensuale, spesso sta in offerta, adesso vi dico anche in questa campagna a quanto lo trovate per poco, per chi sa per finire questa campagna, vediamo se lo trovo, con 240 pagine non è facile, no, questa campagna non c'è, però comunque io l'avevo pagato intorno in offerta tipo 14 euro e 99 centesimi, quindi niente, è un profumo che li vale tutti, anche perché poi Oliver Cresp è uno dei profumieri che io adoro, quindi quando ho letto che era stato creato da lui, l'ho dovuto prendere, è un profumo veramente molto molto bello e da avere, bellissimo, poi la seconda profumazione di cui voglio parlarvi, è questa, si chiama Belmond, questa è la scatolina tutta dorata, con la scritta sempre dorata, bellissimo, e il pack di questo profumo è meraviglioso, sembra quasi una borsetta, mi ricordo tantissimo una borsetta, quindi ha la parte sopra dorata con effetto appunto pelle, e poi la parte sotto trasparente con il nome della profumazione, e questo anche è stato creato per Faberlic dal profumiare francese Alléneau Masséiné, La descrizione dell'aroma è di frutta con note morbide e speziate di legno, quindi l'aroma si apre con un suono elegante aristocratico, e ce lo fa capire anche la bottiglietta, di gardenia e fiore, di rose vellutate e di violette incomparabili, il cuore della composizione combina il lusso delle spezie iridescenti e l'unicità della base preziosa, rouge e groselle de l'airé, la scia impeccabile di legno e ambra sottolinea l'appartenenza alla società aristocratica, adesso andiamo a leggere la piramide olfattiva appunto della profumazione, le note iniziali sono il bergamotto, nel cuore troviamo rosa, gardenia, viola, pepe rosa, zafferano, rouge e groselle de l'airé, e nel fondo appunto troviamo l'ambra, il moschio, il sandalo, il palissandro e la fava tonca, la rouge e groselle de l'airé è una delle basi leggendarie con un'anima di bacche rosse succose che contrastano con le note floreali di osmanto e d'ava, tale base viene utilizzata solo in combinazione di profumi molto costosi. Allora è un profumo particolare, come avete visto ha comunque una piramide olfattiva molto studiata, molto elaborata, appena lo spruzziamo si sente tantissimo la parte del bergamotto che è la parte fresca, e poi ha questo pepe che si sente tantissimo, che gli dà questo aspetto piccantino, questo aspetto comunque particolare alla profumazione. Sono questi profumi che comunque hanno una buonissima persistenza, una buonissima durata e lasciano anche scia. Lui tra tutti quelli che ho è sicuramente quello più particolare, perché avendo questa piramide molto molto complessa, gli dà questo aspetto particolare, cioè non ve lo so spiegare, è davvero strano, cioè non è per tutti sicuramente. Si sente anche tanto la parte comunque fruttata, dopo un po', che troviamo appunto, sarà data appunto da questo roce grosel de l'ége, perché abbiamo letto che al suo interno ha queste bacche rosse, che comunque si sentono, si sente che c'ha qualcosa di fruttato al suo interno, e anche lo zafferano gli dà non so che di particolare. È buonissimo, per carità, cioè io di tutte le profumazioni che ho acquistato della Faberly, che cominciano ad essere parecchie, e non ce n'è uno che non mi piace, sono meravigliose. Questa però tra tutti è sicuramente la più particolare, ma è davvero molto bella, è intensa, molto... Ecco, questa è per le serate speciali, non per tutti i giorni, mentre quell'altro possiamo indossarlo davvero molto molto più spesso, questo è un po' più particolare, quindi magari per le occasioni speciali, però è bellissimo, è bello anche il pack. E questo, sul catalogo, vi dico a quanto sta, sta spesso in offerta, e trovate anche il profumo maschile, sta a 17,99€, bellissimo, veramente molto molto bello, in particolare questo profumo. Adesso passiamo a un altro, Valkyrie, anche questo, questo è un profumo che amo, sia per il nome, che comunque mi ispira, la Valkyrie è sempre stata una donna forte, e quindi non potevo non prenderlo, io poi chiamo i vichinghi, e tutto ciò che gira intorno ai vichinghi, bellissima, e anche la scatola azzurra, con questa sorta di corna brillantinati, e questa è la profumazione, è meravigliosa anche la bottiglia, con il legno, con il tappo in legno, e l'azzurro, l'azzurro trasparente della bottiglietta. Allora, Valkyrie, anche questa è stata creata in esclusiva, per Faberlic, dal maestro della profumeria, Oliver Cresp, che io amo, quindi la Valkyrie, nobile e saggia, e la sua energia supera l'impossibile, era una donna che quando voleva qualcosa, faceva di tutto per ottenerla, e quindi sa cosa vuole, e raggiunge sempre questo, e un po' la rispecchia, insomma, ovviamente la profumazione è stata ricreata intorno alla Valkyrie, e quindi ovviamente la rispecchia. È un aroma fresco floreale agrumato, quindi ha l'aroma cristallino e luccicante, che incarna l'immagine della Vergine Guerriera Scandinava, con fresche note di principessa e tarocco arancione, nel cuore del profumo una stella alpina inespugnabile, come simbolo di fideltà e coraggio. Un delicato giacinto, come riflesso di amore e devozione, petali di rosa coperti di neve, come la fredda bellezza nordica della Regina del Nord. La piramide olfattiva della profumazione, le note iniziali sono limone, bergamotto e arancia di tarocco, nel cuore troviamo la stella alpina, il giacinto, i petali di rosa di coperti di neve, principessa e mela verde, nel fondo troviamo il muschio e cedro, comunque le note principali sono l'arancio, tarocco, la stella alpina e la principessa, sono quelle predominanti in tutte e tre, una nelle note di cuore, una nelle note di fondo e una nelle note di base, ovviamente. È un profumo meraviglioso, bellissimo, adoro, adoro veramente questo profumo, fresco, intenso, ha tutto, questo profumo dentro ha tutto, è freschissimo, appena lo spruzziamo, è intenso, la chashia è forte, è una profumazione veramente che rispecchia tantissimo la valchiria, e si liga perfettamente a questo nome, è un profumo che sto amando alla follia, bellissimo, intenso, femminile, ma non stucchevole, perché comunque la valchiria, sì, era una donna bella e sensuale, ma sempre non una principessina, ecco, decisamente, e questa è una profumazione meravigliosa, è una profumazione che sto amando tantissimo, è una profumazione bellissima, intensa, e tra quelle che vi ho mostrato sicuramente, lo vedrete anche dal mio, lo capirete anche dal mio volto, da come ve ne parlo, è quella che preferisco, tutte e tre sono molto intense, molto forti, e lasciano scia, si sentono, ma questa è unica, unica veramente, faccio i miei complimenti alla Faberlic, e a Oliver Crespa, per questa meraviglia, veramente, ma anche per gli altri, sono tutti eccezionali, veramente, i profumi della Faberlic, vi dico, il prezzo, questo tra tutti è quello che viene un po' di più, tipo in questa campagna, stavo in offerta, a 26 euro, e 99 centesimi, e troviamo anche Vikings, per quanto riguarda l'uomo, bellissimo, cioè, quello prima o poi, io lo prendo a Diego, sono tre profumi, meravigliosi, uno più bello dell'altro, comunque, profumi che costano poco, rispetto, a, a tanti altri, ma che valgono davvero tanto, e che poi, comunque, sono stati fatti, come avete visto, da, maestri profumieri, famosi, e quindi, vale la pena, assolutamente, prenderli e provarli, sono contenta di averli presi, presto vi parlerò anche degli altri, e ne prenderò anche degli altri, perché poi, ne hanno tantissimi, veramente, quindi, è una droga, per me, comunque, sono felicissima, di averli presi, spero che questo video, vi sia piaciuto, se li avete provati, fatemi sapere, cosa ne pensate, se ne avete qualcuno, da consigliarmi, sotto nell'info box, scrivetemelo, io spero che il video, vi sia piaciuto, vi sia stato di compagnia, mi raccomando, se è stato così, mettete un bel like, iscrivetevi, se ancora non l'avete fatto, e se vi faccio, vediamo la prossima volta, con qualche altro, profumo della Faberlic, ciao! Ciao! Grazie!